Emma Marrone infiamma Yoga Radio Bruno Estate 2024. Ma prima, una sfida personale incredibile. Come ha trasformato una diagnosi di tumore in un potente messaggio di speranza? Emma Marrone ha recentemente illuminato il palco del Radio Bruno Estate 2024. Un evento che ha attraversato le affascinanti piazze dell'Emilia Romagna e della Toscana. Ma dietro le quinte, Emma ha affrontato una sfida personale molto importante. In una recente intervista alle Iene, Emma ha rivelato un drammatico momento. Scoprì di avere un tumore alle ovaie durante una visita ginecologica casuale. Qual è il messaggio più importante che hai ricevuto da Emma? Faccelo sapere nei commenti. Nonostante la diagnosi, Emma non ha mai smesso di monitorare la sua salute. Oggi, con gioia, ha condiviso che i suoi controlli medici sono andati bene. Ha voluto ribadire l'importanza della prevenzione nella sua toccante storia su Instagram. Non perderti nemmeno un momento. Abbonati ora per accedere subito a contenuti esclusivi che ti lasceranno a bocca aperta. Clicca e unisciti alla nostra community. Il suo messaggio è chiaro. Fate sempre i controlli e non trascurate la vostra salute. Questo è tutto per oggi. Grazie per averci seguito. Continuate a riflettere e a cercare la vostra verità. Alla prossima!